Ho messo via proprio Allora eccoci qua Buonasera a tutti Buonasera Siamo arrivati al termine di questo breve ma decisamente intenso percorso Sono stati quattro giorni di studio pieno Direi molto pieno I ragazzi sono belli freschi, vero? Non siete stanti, no? Hanno lavorato tanto Siete belli freschi e pimpanti Hanno lavorato tanto Anche noi Questo è il concerto di fine corso Quindi si esibiranno i ragazzi nei brani che hanno portato alla Master Ne hanno portati anche più di quelli che eseguiranno Però ne abbiamo scelto uno, massimo due Per dar modo a tutti quanti di suonare in un tempo Certo Congo Io vorrei innanzitutto ringraziare sin da subito i nostri gentilissimi ospiti Che sono Pablo Telles, il maestro Pablo Telles Grazie mille per l'istituzione Collegio Martis Che sono stati con noi veramente preziosissimi, generosissimi, gentilissimi Quindi un grosso grazie da parte nostra e da parte di tutti i ragazzi Allora Iniziamo subito perché li vedo Tutti un po' Abbiamo deciso di più o meno dividerli per fascia di età Quindi iniziamo con i più piccolini, poi i mediani e poi i più grandi Allora iniziamo subito con Damiano Corradi e Martina Carini Che ci suoneranno a quattro mani tre brani Il primo è di Foré Dalla Suite d'Hollie A quattro mani appunto il pezzo si chiama Berceuse Il secondo? Il secondo è di un certo Andrea Frezzolini Non sappiamo bene chi sia E il titolo è Marionette Il terzo anche è sempre del cosiddetto Andrea Frezzolini È Dolcetto Scherzetto Allora Ascoltiamo Damiano Corradi di 9 anni e Martina Carini di 10 anni Ascoltiamo Damiano Corradi di 10 anni e Martina Carini di 10 anni Ascoltiamo Damiano Corradi di 10 anni e Martina Carini di 10 anni e Martina Carini di 10 anni Dove più picco Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.